Complesso didattico di Piande e Mantellini. Piande e Mantellini, 44, Siena. Vi si accede agevolmente da uno spiazzo di fronte all'edificio. Nell'atrio dell'ingresso si trova la portineria spaziosa con scrivani e sedie per la pesa. Superata una doppia porta si incontrano due piccole rampe di scale in discesa, una conduce al corridoio del piano 0, la seconda conduce ad una sala studio. Sono presenti due montascale. Sulla strada ci sono due parcheggi riservati. Nel complesso didattico di Piande e Mantellini è sede, sportello studenti e didattica scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, ascensori. L'ascensore conduce a tutti i piani compreso l'ammezzato, ed è a norma, accesso alle aule e agli studi dei docenti. Al piano 0 c'è l'aula magna e altre due aule, gli ambienti sono ampi, ben illuminati e erati. Al piano 1 c'è lo sportello ufficio studenti e didattica, due laboratori di cui uno di informatica, due aule. Gli ambienti sono accessibili e ben illuminati. Al piano 2 ci sono gli studi dei docenti. Accesso allo sportello ufficio studenti e didattica. Lo sportello studenti e didattica presenta porte ampie, spazi adeguati, scrivani e sedie di attesa. Servizi igienici dedicati. Presenti due bagni, uno al piano 0 e uno al piano 2, spaziosi e a norma. Presente un terzo bagno al piano di mezzo, aperto solo con richiesta al personale. Conforte degli ambienti. Tutte le porte delle aule sono antipanico in rispetto della normativa, ampie e agevoli da aprire. L'illuminazione e la reazione degli ambienti è naturale. Nelle aule ci sono sedie con seduta fissa e sedie mobili con banchetto. Gli ambienti consentono spazi di manovra agevoli. Ottima segnaletica. Tecnologie per la didattica. L'aula Magna dispone di nuovo impianto audio di elevata qualità.